Tutto pronto per la settantesima edizione della Mostra d'Arte Internazionale Cinematografica di Venezia. Il direttore Alberto Barbera ha appena accolto la madrina, la modella e attrice Eva Riccobono. Eva, potete guardare i suoi sangue, per favore? Eva, grazie. Eva, potete guardare qui, per favore. La Riccobono sarà domani sera sul palco per la cerimonia di inaugurazione. Il film d'apertura, Gravity di Alfonso Cuaron, con Sandra Bullock e George Clooney.